Valeria Parisi, regista del documentario Mostruosamente Villaggio, che abbiamo appena visto al Bifest. Valeria, mi puoi raccontare come è arrivata a Paolo Villaggio e a voler fare questo documentario? Allora, io lavoro da 30 anni, faccio parte di un team, non 30, adesso esagero, da 20 anni faccio parte di un team, di una squadra che è la 3D Produzioni Video. Abbiamo prodotto già diversi documentari su anche personaggi di cinema, per esempio su Gasman, per esempio su Alberto Sordi, per esempio su Vierna Lisi. Questi tre che ho citato sono stati fatti da Fabrizio Corallo, che è uno degli autori, non era presente purtroppo, ma uno degli autori di Mostruosamente Villaggio. Fabrizio con me ha fatto un documentario l'anno scorso, un anno e mezzo fa, che è Suegno Flaiano, Flaiano straniero in patria, che ha vinto anche il nastro d'argento per cui c'è creato un bel sodalizio, una bella amicizia. Da lì siamo partiti, Fabrizio conosceva Elisabetta Villaggio e Elisabetta è anni, che vuole fare un documentario. Didi Gnocchi, che è la nostra fondatrice della 3D, ha individuato subito nell'on video, nel girato di Elisabetta, delle cose molto forti dal punto di vista video, che avrebbero fatto un documentario un po' diverso dagli altri, e che sarebbero serviti a raccontare non soltanto la maschera e il personaggio Fantozzi, ma invece il personaggio a tutto tondo, nella sua complessità, perché quello che volevamo era anche rendere la complessità di Paolo Villaggio, che era un uomo non molto simpatico a volte, estremamente intelligente, generoso, ma inaffidabile. Cioè, aveva una serie di difetti, oltre che il grande talento, la grande intelligenza, e lo volevamo raccontare tutto. Ok, una domanda soltanto sugli intervistati. Ho visto un po' di assenze, tipo per esempio, sarebbe stato bello sentire Renato Pozzetto. Non so, come ha scelto, cioè come si è avvicinata ai vari personaggi che hanno conosciuto Paolo Villaggio e che ne potevano parlare? Sai, Paolo Villaggio era del 1932 comunque, per cui facciamo i conti degli anni che potrebbe avere, nel 22 ne avrebbe avuto 90, per cui i suoi coetanei, i testimoni della storia, purtroppo molti di loro non ci sono più o non sono in gran forma. Per cui, riguardo agli intervistati, abbiamo fatto un lavoro cercando di trovare quelli che fossero più pregni e magari in qualche caso anche che fosse forse una prima volta che si aveva il loro racconto, perché ad esempio non mi sembra di avere già avuto Adriano Panatta, che raccontava, che è stato molto generoso nel racconto. Renato Pozzetto, purtroppo, quando gliel'abbiamo chiesto non stava bene, c'era Cochi Ponzoni, però, che mi è piaciuto molto, è stato molto generoso nel racconto, ci ha detto, per esempio, ci raccontava dei loro esordi nel 1968 con quelli della Domenica, dove addirittura raccontava, una cosa che mi piace molto è quando racconta che loro, che era una trasmissione che andava male, perché era troppo controcorrente, per cui da una parte rappresentava un punto di forza e una novità, ma il grande pubblico non la guardava. Fortunatamente Gianni Agnelli, a un intervistatore, ha raccontato che si fermava dal giocare a golf ogni domenica per vedere Loro Due e Paolo Villaggio, e così, dice, questa cosa gli ha dato dei punti e ha continuato ad esserci questa trasmissione. Va bene, grazie mille.